Ben collegati a tutti, ho l'onore di presentare questo quarto incontro maturandi che questa volta vogliamo trattare, abbiamo visto la scienza, l'economia, il diritto. Oggi vogliamo trattare la letteratura e ho l'onore di avere tra noi Valerio Capasa, di avere collegato con noi Valerio Capasa che già ha partecipato ad altre edizioni dei pomeriggi maturandi, dilettandoci di Pavese, di Calvino, di tanti altri grandissimi autori e che oggi sempre sul tema della crisi vuole intrattenerci con questo incontro sulla letteratura del Novecentro dentro la crisi dal titolo Una cosa si salva sull'orrore e poi ci spiegherà anche questo titolo accattivante. Come sapete la struttura di questo incontro, il professor Capasa farà una sua relazione di tre quarti d'ora e dopo c'è lo spazio, uno spazio di 20 minuti, massimo mezz'ora per domande. Le domande dovete mandarle sulla chat di Portofranco e verranno poi fatte al relatore dal professor Meneghetti che coordina, siamo me, l'incontro. Vi ricordo ancora, ve lo dirò anche alla fine, siccome molti chiedono questo, l'attestato per la partecipazione a questo corso verranno date alla fine, quindi dopo l'ultimo incontro che sarà il 12 aprile, mandando la richiesta per mail alla mail maturandi.chiocciolo.portofranco.org. Adesso, ringraziandolo per la sua presenza, cedo la parola al professor Capasa. Buon lavoro a tutti. Buonasera a tutti. Io vorrei cominciare da una frase vecchia di un secolo, di un grande intellettuale che si chiama Antonio Gramsci, che dice nei suoi quaderni del carcere che il fatto che la scuola si sia staccata dalla vita ha determinato la crisi della scuola e che la partecipazione realmente attiva dell'allievo alla scuola può esistere solo se la scuola è legata alla vita. Un secolo fa, e Gramsci parlava di crisi, crisi della scuola e frattura tra la scuola e la vita, sono gli stessi problemi che stiamo vivendo anche noi in questi giorni, perché di crisi della scuola e di crisi in generale, a proposito del Novecento, si è sempre parlato dal cosiddetto decadentismo, cioè Pirandello, Svevo, Pascoli, D'Annunzio, passando per due guerre mondiali, il fascismo, e quindi Ungaretti, Montale, Saba, Pavese, Vittorini, Levi, Fenoglio. La crisi è un po' la colonna portante di tutto quell'edificio complesso che è il Novecento. Questa constatazione ci avverte subito di quello che è il dato di partenza di questo nostro incontro di oggi. Non è mai esistito qualcosa che non fosse crisi, cioè la normalità non esiste. Noi in questi mesi diciamo, ripetiamo, che stiamo vivendo un momento critico, un momento di crisi e sentiamo dire spesso che non vediamo l'ora che passi presto e che possiamo tornare alla normalità, ma in realtà la normalità non è mai esistita, la normalità non esiste. La vita è crisi, la normalità della vita è crisi. La normalità, cioè, la normalità di cui parliamo spesso, è un'illusione di superficie. Chi frequenta la letteratura sa che gli scrittori hanno sempre puntato gli occhi su quanto esula della normalità anche in tempi apparentemente non critici, cioè non hanno avvertito la crisi soltanto durante le guerre mondiali o durante il fascismo, per esempio, ma anche in tempi di belle époque, anche in tempi di ricostruzione o di boom economico, hanno avvertito la crisi. Quello che è nuovo è probabilmente questo, che siccome un testo parla sempre a chi lo investe delle proprie domande, un testo si modifica in base alle domande che una generazione, un'epoca, un lettore li pone, allora forse un momento di crisi come quella che noi stiamo vivendo è un angolo di osservazione inedito su tutte le crisi che ci hanno preceduto e perciò ho pensato, una lezione per i maturandi a marzo si può strutturare in tanti modi, ci si può soffermare su un autore, su alcuni autori, su una carrellata cronologica, ho pensato invece, dal momento che l'idea era quella di parlare della crisi, di puntare su questo argomento, su questo interrogativo, cosa ha da dire la letteratura quando la vita appare in crisi, cioè appare stagnante, appare bloccata, ferma, come può essere adesso la vita che stiamo vivendo. In altre parole, cioè come gli scrittori del Novecento hanno affrontato, hanno guardato, hanno descritto la crisi e che cosa si salva dentro la crisi, che cosa ci salva dentro la crisi. Comincerei dalla fine del Novecento, da uno scrittore americano morto nel 1994 che si chiama Charles Bukowski. Vi leggo pochi versi di trent'anni fa che però ci mostrano come in qualche modo la poesia possa risultare profetico, almeno come sappia ficcare gli occhi in quelle costanti profonde che sfuggono al radar delle banalità quotidiane. Sentite cosa scriveva. Adesso ci sono computer e ancora più computer e presto tutti ne avranno uno, i bambini di tre anni avranno i computer e tutti sapranno tutto di tutti gli altri, molto prima di incontrarli e così non vorranno più incontrarli. Nessuno vorrà incontrare più nessun altro, mai più. e saranno tutti dei reclusi, come me adesso. Lui è morto nel 1994, quindi non sta parlando della Dad, ma noi ci troviamo, esattamente come trent'anni fa nelle nostre zone rosse, a rimanere in gabbia e a sentirci perfino comodi. Nessuno vorrà incontrare più nessun altro. Fa parte della crisi umana che stiamo vivendo, crisi umana che è più potente della crisi sanitaria in questo momento. Ma se torniamo indietro di un secolo, se andiamo all'inizio del Novecento, al 1911, c'è una breve favola di Svevo che ci mostra una gabbia in cui però stranamente ci si sente a proprio agio. La porticina della gabbia era rimasta aperta. L'uccellino con lieve balzo fu sull'uscio e da lì guardò il vasto mondo prima con un occhio e poi con l'altro. Passò per il suo corpicino il fremito del desiderio dei vasti spazi per cui le sue ali erano fatte. Ma poi pensò se esco potrebbero chiudere la gabbia ed io resterei fuori prigioniero. La bestiola rientrò e poco dopo con soddisfazione vide rinchiudersi la porticina che suggellava la sua libertà. 1911 Svevo costruisce un singolare paradosso. La libertà fa paura e la libertà è quella che si vive dentro la gabbia. Cioè in questa favoletta la prigionia è fuori ed è quello che in qualche modo in circostanze diverse appunto stiamo vedendo anche noi. È difficile leggere questa favola e non pensare al fatto che per esempio in Puglia dove io vivo quando delle ordinanze regionali hanno chiesto di scegliere se ai ragazzi se rientrare in presenza oppure rimanere in DAD l'ottantaquattro per cento degli studenti pur stremato da mesi di DAD da lezioni dietro gli schermi ha preferito rimanere in gabbia ottantaquattro per cento perché quello che c'è fuori fa paura non è soltanto la paura di ammalarsi è come se avessimo interiorizzato la distanza in qualche modo che ormai ci fa anche comodo mi viene in mente quello che Jacopo Ortiz pensò di Odoardo che doveva sposare Teresa Jacopo Ortiz diceva io non odio persona del mondo ma vi sono certi uomini che io ho bisogno di vedere soltanto da lontano forse è quello che che tanti studenti pensano dei loro insegnanti e viceversa e cioè la malattia è più profonda di quanto ci raccontiamo perché può ammalarsi il corpo ma può ammalarsi anche l'anima ed è altamente probabile che conti di più la malattia dell'anima di solito infatti viviamo come in un'illusione che la salute sia tutto ce lo diciamo quando c'è la salute c'è tutto e tutto cosa sarebbe sarebbe la cosiddetta normalità ma la normalità cosa sarebbe la normalità sarebbe il il borghesismo di sempre noi stiamo rimpiangendo la normalità come se la normalità fosse un Eden perduto e invece la normalità era già il problema 1955 un grandissimo poeta che si chiama Clemente Rebora descrive che cos'è questa normalità dice che quando era bambino un guasto occulto mi minava in basso un lutto orlava ogni mio gioire l'infinito anelando udivo intorno nel traffico nel chiasso un dire furbo quando c'è la salute c'è tutto e intendevan le guance paffute nel girotondo di questo mondo ribellante gridava la mia pena ho sbagliato pianeta Rebora sente di aver sbagliato pianeta è un ragazzo che crescendo sente di aver sbagliato pianeta perché è quasi impossibile in questo pianeta trovare qualcuno che veda oltre la superficie a lui non manca la salute gli manca l'infinito ma sembra che non ci sia alcuna fraterna intesa dirà qualche verso dopo le mie braccia tese una fraterna intesa recise cadevano a terra cioè sembra che gli altri avvertano solo un problema mettersi al sicuro come se a forza di estromettere l'infinito e di pensare alla salute gli uomini fossero diventati già da tempo ed è il problema che noi stiamo scontando stiamo ereditando in questo in questi mesi come se gli uomini fossero diventati appunto sordi alla mancanza di infinito e si fossero costruiti una sorta di retorica della vita uso questa parola perché un altro scrittore del novecento che varrebbe la pena conoscere si chiama Carlo Michel Stetter e nel 1910 nella sua tesi di laurea che si intitola la persuasione e la retorica lui dà luogo a un dialogo assolutamente surreale sentite che cosa dice sono due uomini che si parlano quando indosso l'uniforme vesto anche un'altra persona io credo che nell'esercizio delle sue funzioni l'uomo debba essere assolutamente libero libero di mente e di spirito nell'anticamera del mio ufficio io depongo tutte le mie opinioni personali i sentimenti le debolezze umane ed entro nel tempio della civiltà a compiere la mia opera col cuore temprato all'oggettività allora io sento di portare il mio contributo alla grande opera di civiltà in pro dell'umanità e in me parlano le sante istituzioni dico bene io ammiro la sua fermezza e lei non pensa ai suoi interessi lo stipendio corre ed è sicuro e poi lei sa gli incerti già già ma e poi quando Dio lo tenga lontano questa sua ammirabile fibra sarà fievolita ah c'è la pensione lo Stato non abbandona i suoi fedeli che ma scusi se le suscito brutte immagini ma siamo uomini deboli nel caso di una malattia sa ce ne sono tante ore in giro niente niente appartengo a una cassa per gli ammalati come tutti i miei colleghi il nostro ospedale ha tutti i comodi moderni e si viene curati secondo le più moderne conquiste della medicina vede ah vedo ma non saprei i casi sono tanti capisco che siamo difesi dalle leggi eppure i furti i furti sono all'ordine del giorno sono assicurato contro il furto ma mette il caso di un incendio assicurato contro il fuoco perbacco ma un cavallo scusi volevo dire un'automobile che ci investe un tegolo assicurato contro gli incidenti gli accidenti ma infine morire moriamo tutti fa niente sono assicurato per il caso di morte come vede aggiunse poi trionfante sorridendo del mio smarrimento sono in una botte di ferro come si suol dire io rimasi senza parole ma nello smarrimento mi lampeggiò l'idea che il vino prima di entrare nella botte passò sotto torchio quest'uomo ottuso che è il perfetto prodotto di una civiltà che si preoccupa solo di compiere il proprio dovere non si cura di altro come dire vive quello che Michael Steffer chiama il postulato della sicurezza cioè rispetta un codice di diritti e doveri io rispetto le regole io vado avanti col programma la scuola deve andare avanti 1910 è già un mondo in cui le persone si preoccupano della vita dice Michael Steffer come se la vita avesse già valore quella che Michael Steffer chiama sufficienza cioè come se il valore della vita fosse già nel fatto che uno vive fosse già per esempio non so nel fare lezione come se il fare lezione fosse già sufficiente a dire che la vita sta andando avanti sono individui ridotti a meccanismi che avvertono un solo pericolo il proprio simile e e invece appunto chi infrange la convenzione chi non pensa che la vita sia già sufficiente a se stessa chi pensa che la vita invece sia mancante di qualcosa chi sente di aver sbagliato pianeta in questa vita di gente a posto è pericoloso è pericoloso come se fosse un untore manzoniano che rompe il comodo in cui su cui si fonda la vita questa vita in gabbia mi viene in mente un romanzo del 1989 di di Murakami che si chiama Norwegian Wood in cui sono tanti ragazzi che che spariscono che che soffrono che si ammazzano ma non c'è nessun adulto non ci sono adulti ed è un po' quello che appunto quello che tutto il novecento descrive un'assenza clamorosa di padre un'orfanità c'è un'immagine classica che risale niente meno che a Virgilio all'Eneide e che insospettabilmente torna a cogliere il cuore della tragedia del nostro tempo uno dei dei più grandi poeti del novecento si chiama Giorgio Caproni scusate se vi sto citando anche poeti un po' fuori dal canone Caproni Michel Stetter Rebora è un modo per suggerirvi di di dire agli insegnanti di non preoccuparsi se non finiscono i programmi tanto possono correre quanto vogliono ne rimangono fuori tantissimi quindi non c'è fretta comunque Giorgio Caproni dice cioè ricordate quella scena memorabile dell'Eneide in cui Enea fugge da Troia in fiamme e si carica suo padre sulle spalle e tiene Ascanio suo figlio per mano Caproni dice che noi in questo tempo siamo come Enea nel senso che dice lui anche noi dice il mio Enea sentite come lo descrive ha poco a che fare con quello di Virgilio a Genova in piazza Bandiera mi colpì durante la guerra il monumento a Enea che là si trova Enea che fuggito dall'incendio di Troia era venuto a capitare proprio nella piazza più bombardata della città cioè Enea non è soltanto un eroe di un vecchio libro di due millenni prima Caproni guardando quella statua alla fine della seconda guerra mondiale pensa ad Enea non eroe ma uomo che cerca di trarre in salvo sulle spalle un passato che crolla da tutte le parti il padre Anchise e per la mano un futuro il figlioletto Ascanio che ancora non si regge dritto l'uomo colto nella sua più assoluta solitudine simbolo per me dell'uomo di quegli anni e forse non soltanto di quelli se ancora oggi ci troviamo soli di fronte a una tradizione che sta per sgretolarsi e una speranza che non riesce a prendere consistenza sono parole del 1980 che però Caproni su cui è ritornato spesso appunto fin da dopo la seconda guerra mondiale perché per lui l'uomo incarnato da Enea simboleggiato da Enea appunto è solo sulla terra con sulle spalle questa tradizione che tenta di sostenere e dovrebbe essere il contrario la tradizione non sostiene più l'uomo e crolla da tutte le parti mentre per la mano l'uomo ha una speranza che è ancora troppo piccola come un bambino appunto è troppo vacillante per poterci si appoggiare tuttavia l'uomo deve portarla a salvamento dice Caproni ora quale tradizione il Novecento ci ha consegnato e quale speranza possiamo portare per mano a quanto pare il Novecento ha documentato quello che appunto anche noi stiamo ereditando cioè la la latitanza diciamo così della tradizione la latitanza degli adulti una scuola che anziché sorreggerci ha bisogno lei di essere sorretta va avanti con spiegazione interrogazione spiegazione interrogazione e fa l'effetto che racconta nel 1960 un altro gigante che anche questo fuori dai canoni però che vale la pena conoscere si chiama Alberto Moravia e in un suo romanzo intitolato La Noia dice all'inizio proprio nell'incipit dice La Noia per me è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà per adoperare una metafora la realtà quando mi annoio mi ha sempre fatto l'effetto sconcertante che fa una coperta troppo corta ad un dormiente in una notte d'inverno la tira sui piedi e affredda il petto la tira sul petto e affredda i piedi e così non riesce mai a prendere sonno veramente oppure altro paragone la mia noia rassomiglia all'interruzione frequente e misteriosa della corrente elettrica in una casa un momento tutto è chiaro ed evidente qui sono le poltrone lì i divani più là gli armadi le console i quadri i tendaggi i tappeti le finestre le porte un momento dopo non c'è più che buio e vuoto oppure terzo paragone la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina come a vedere in pochi secondi per trasformazioni successive rapidissime un fiore passare dal boccio all'appassimento e alla polvere il sentimento della noia nasce in me da quello dell'assurdità di una realtà come ho detto insufficiente ossia incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza sembra che la realtà non esista e infatti dirà Moravia che quando era piccolo la noia assumeva forme del tutto oscure a me stesso e agli altri che io ero incapace di spiegare e che gli altri nel caso mia madre attribuivano a disturbi della salute e altre simile cause un po' come il malumore dei bimbi più piccoli viene attribuito allo spuntare dei denti mi avveniva in quegli anni di cessare improvvisamente di giocare e di restare ora intera immobile come attonito sopraffatto in realtà dal malessere che mi ispirava a quello che ho chiamato l'avvizzimento degli oggetti ossia dall'oscura consapevolezza che tra me e le cose non ci fosse alcun rapporto se in quei momenti mia madre entrava nella stanza vedendomi muto inerte e pallido per la sofferenza mi domandava che cosa avessi rispondevo invariabilmente mi annoio spiegando così con una parola di significato chiaro e angusto uno stato d'animo vasto e oscuro mia madre allora prendendo sul serio la mia affermazione si chinava ad abbracciarmi e poi mi prometteva di portarmi al cinema quel pomeriggio stesso ossia mi proponeva un divertimento che come sapevo ormai benissimo non era il contrario della noia né il suo rimedio ed io pur fingendo di accogliere con gioia la proposta non potevo fare a meno di provare quello stesso sentimento di noia che mia madre pretendeva fugare per le sue labbra che si posavano sulla mia fronte per le sue braccia che mi circondavano le spalle nonché per il cinema che lei mi faceva abbalenare come un miraggio davanti agli occhi anche con le sue labbra con le sue braccia con il cinema infatti io non avevo alcun rapporto in quel momento ma come avrei potuto spiegare a mia madre che il sentimento di noia di cui soffrivo non poteva essere alleviato in alcun modo ho già notato che la noia consiste principalmente nell'incomunicabilità mi fermo perché è tutto interessante racconta come per esempio durante durante l'adolescenza tutte le insufficienze scolastiche fossero dovute non tanto a a un'incapacità in questo in quell'altra materia ma a quel malessere per cui lui sentiva che i re ateniesi piuttosto che gli endecasilla di Dante piuttosto che le operazioni algebrico le formule chimiche non lo riguardava ora io sto leggendo sto leggendo questi testi vari per documentare che appunto in epoche diverse però la letteratura ha sempre fatto i conti con una malattia che non era soltanto una malattia fisica ma era molto di più e ha documentato appunto giornate che si ripetono tutte uguali penso a una poesia di Giovanni Giudici che si intitola Una sera come tante e o al o quella stupenda poesia di Pavese che si intitola Lo stedazzo in cui un uomo si sveglia sa che sta per cominciare una giornata in cui non accadrà nulla assolutamente nulla e non c'è niente di più amaro l'uomo solo si leva che il mare è ancora buio e le stelle vacillano un tepore di fiato sale su dalla riva dove il letto del mare addolcisce il respiro questa è l'ora in cui nulla può accadere perfino la pipa tra i denti pende spenta notturna il sommesso sciacquio l'uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami e lo guarda arrossare il terreno anche il mare tra non molto sarà come il fuoco avvampante non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno in cui nulla accadrà non c'è cosa più amara che l'inutilità pende stanca nel cielo una stella verdogno la sorpresa dell'alba vede il mare ancora buio e la macchia di fuoco a cui l'uomo per fare qualcosa si scalda vede e cade dal sonno tra le fosche montagne dove un letto di neve la lentezza dell'ora è spietata per chi non aspetta più nulla va la pena che il sole si levi dal mare e la lunga giornata cominci domani tornerà l'alba tiepida con la diafana luce e sarà come ieri e mai nulla accadrà l'uomo solo vorrebbe soltanto dormire quando l'ultima stella si spegne nel cielo l'uomo ad agio prepara la pipa e l'accende l'uomo solo vorrebbe soltanto dormire perché non ha nessuno per cui valga la pena alzarsi dal letto siamo nel 1936 Pavese è stato confinato accusato di antifascismo ma attenti alla natura della poesia perché evidentemente se un uomo solo all'alba avverte questa amarezza alla fiocca luce dell'ultima stella che si che sta per spegnersi al mattino lo steddazzo in calabrese pavese era confinato a brancalione calabro vuol dire che quell'uomo solo non è ancora rassegnato la sua amarezza non è ancora indiottito dalla notte cioè non è diventato un esecutore senza anima del suo dovere quotidiano non è uno che si alza e si collega alla lezione non è uno che che timbra il cartellino avverte la notte avverte l'amarezza di un'alba in cui nulla accadrà e questo questa stella che non si spegne è la poesia cioè è l'anima dell'uomo che non si arrende probabilmente tutti spero ricorderete come inizia come iniziava il canto notturno di un pastore errante dell'Asia di Leopardi con con questa con la luna che fa sempre lo stesso percorso la cui vita somiglia alla vita del pastore che sorge in sul primo albore muove la greggia oltreppi il campo e vede greggi fontane ed erbe cioè che ogni giorno è sempre la stessa vita che cosa rompe il meccanismo infinito l'eterno ripetersi del del ciclo lunare o del ciclo della giornata umana cinque ore di dad cinque materie per il giorno dopo cinque ore di dad cinque materie per il giorno che cosa rompe questa monotonia la domanda di senso cioè il pastore errante che chiede a che vale la mia vita ove tende ed è domanda di senso cioè la domanda sul perché il pastore errante chiederà alla luna il perché delle cose perché ci sia questo scolorare del sembiante perché perché non come un conto è chiedere come si diffonde il covid un altro conto è chiedere perché esiste il covid cioè perché la malattia non come funziona questa malattia ma perché e la poesia da Leopardi a Rebora non ha mai smesso di chiedere non come è morta Silvia ma perché muore Silvia ve lo faccio leggere ancora da questo gigante del novecento che si chiama Clemente Rebora perché l'insidia se vivere è fiducia perché la colpa se vivere è bellezza perché l'angoscia se vivere è conquista perché la morte se vivere è promessa la domanda del perché che è la domanda dell'uomo metafisico non è la domanda dell'uomo fisiologico è la domanda dell'uomo la cui vita non è sufficiente a se stessa non è soltanto l'esecuzione di un dovere ma la cui appunto la cui vita è una una tensione incompiuta sono domande non sono domande da psicologi io quando mi accorgo ogni giorno che stiamo vivendo appunto una tragedia umana e non sanitaria non solo sanitaria non intendo dire soltanto che c'è una tragedia psicologica oltre che sanitaria perché i greci chiamavano psiuchè non la psicologia chiamavano psiuchè l'anima cioè queste domande sono domande metafisiche non sono domande da psicologi sono domande metafisiche cioè sono domande da uomini sono domande da amici da poeti da dio non sono domande come dire che si rivolgano a meccanismi inceppati come a fine ottocento presumerà una certa illusione scientista di poter raccontare l'uomo appunto avverte sempre avvertito che sempre avvertito penso a Leopardi di vivere in una sorta di stanza nel canto notturno Leopardi chiama il mondo lo chiama stanza anche il mondo è troppo poco e la vita è una sorta di di delirio di immobilità direbbe Montale l'uomo non cerca soltanto di uscire dalla crisi ma di coglierne il senso anche se la domanda di senso appare clandestina da da molti decenni nel 72 Eugenio Montale scriveva che quello che avviene nel mondo cosiddetto civile a partire dalla fine dell'illuminismo ma ora in sempre più rapida escalation è il totale disinteresse per il senso della vita ciò non contrasta col darsi da fare anzi si riempie il vuoto con l'inutile il mondo muore di noia e l'impiego del tempo è letteralmente spaventoso cioè si pensa che impiegare il tempo sia una risposta alla noia o che il divertimento come diceva Moravia sia una risposta alla noia ma i giovani che si agitano un po' dovunque non se ne rendono forse conto ma il loro vero problema non è né sociale né economico a loro non interessa più nulla ecco il fatto immetteteli in una società più giusta meglio pianificata riempiteli di lauree e di diplomi trovate per tutti un buon impiego e molto tempo libero e il risultato sarà sempre lo stesso una noia sempre crescente senza nemmeno più il conforto sconforto dell'angoscia abbiamo provveduto noi anziani noi balordi aruspici balordi aruspici dei vari futuribili a svuotarli di tutto non ci possono ringraziare questo è certo sembra che appunto le premesse su cui si fonda il nostro tempo siano queste qui il totale disinteresse per per il senso della vita e gli uomini sono rimasti buoni ligi pieni di lauree pieni di diplomi ma senza più il conforto sconforto dell'angoscia cioè impauriti dall'angoscia incapaci di guardare in faccia la crisi la malattia in cui la vita consiste perché questa malattia è come annebbiata come soffocata dall'illusione invece di star bene che ricorda un po' la poesia dei primi poemetti di Pascoli che si chiama i due orfani in cui ci sono questi due ragazzini rimasti orfani che ricordano quando c'era la mamma che li perdonava e si dicono il sentimento che domina è la paura qualsiasi rumore fa paura che è il sentimento dominante anche nel nostro tempo ma a un certo punto i due orfani si dicono che noi siamo ora più buoni cioè noi adesso che la mamma non c'è siamo più buoni ora che non c'è più chi ci perdoni e che cosa se ne fanno della bontà cioè dell'essere diventati buoni se non c'è più chi li perdoni perché la vita a quel punto diventa appunto una una specie di delirio di immobilità appunto se per usare l'espressione di Montale in cui ci troviamo pensate alla prima poesia degli ossi di seppe che si chiama In Limine noi ci troviamo come in un in un orto che in realtà faremo meglio a chiamare un reliquiario cioè siamo in una specie di di recinto in cui non entra mai l'ondata della vita e invece dall'altra parte del muro esiste la vita dall'altra parte del muro dall'altra parte degli schermi dall'altra parte della siepe esiste qualcosa di più significativo esiste una barca di salvezza dice Montale e perciò che cosa cosa cerca l'uomo che avverte la crisi l'uomo che avverte la disarmonia così la chiama Montale l'uomo che avverte la crisi o la disarmonia cerca una maglia rotta nella rete che ci stringe sarà mai possibile scavalcarla questa muraglia passare dall'altra parte del muro una poesia famosissima di Montale 1916 dice meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli frusci di serpi nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche osservar tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremoli scricchi di cicale dai calvi picchi e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che è in cima a cocci a guzzi di bottiglia la vita sembra un seguitare una muraglia ogni giorno ci si alza e si continua a seguitare una muraglia senza mai riuscire a scavalcarla perché in cima ci sono cocci a guzzi di bottiglia non non sembra esserci appunto quella maglia rotta quel varco che ci permetterebbe di accedere a un'altra vita all'impossibile come la chiama in un'intervista del 65 Montale Montale dice di essere un poeta che non ha mai scritto un'autobiografia poetica senza cessare di battere alle porte dell'impossibile nella mia poesia c'è il desiderio di interrogare la vita all'inizio ero scettico influenzato da Schopenhauer ma nei miei versi della maturità ho tentato di sperare di battere al nuovo di vedere ciò che poteva esserci dall'altra parte della parete convinto che la vita ha un significato che ci sfugge ed è quando ci sfugge il significato che la vita diventa male che la vita diventa critica malata che la vita diventa appunto quel delirio di immobilità descritto nella poesia Arsenio è il segno di un'altra orbita tu seguilo discendi all'orizzonte che sovrasta una tromba di piombo alta sui gorghi più dessi vagabonda salso nembo vorticante soffiato dal ribelle elemento alle nubi fa che il passo sulla ghiaia ti scricchioli e ti inciampi il viluppo dell'alga quell'istante è forse molto atteso che ti scampi dal finire il tuo viaggio anello di una catena in moto andare ho troppo noto delirio Arsenio di immobilità in moto andare delirio di immobilità sono parole che raccontano perfettamente cos'è la vita umana e quello che sembra salvarci in questo delirio di immobilità si rivela un un prodigio fallito scrive Montale nella poesia successiva che si intitola Crisalide un prodigio fallito come tutti quelli che ci fioriscono davanti che ci fioriscono d'accanto a Crisalide come amara questa tortura senza nome che ci volve ci porta lontani e poi non restano neppure le nostre orme sulla polvere e noi andremo innanzi senza smuovere un sasso solo della gran muraglia e forse tutto è fisso tutto è scritto e non vedremo sorgere per via la libertà il miracolo il fatto che non era necessario forse non ci succederà questa fortuna di di vedere il miracolo cioè qualcosa che ci salvi che rompa questa gran muraglia che cosa che cosa ci può salvare se torna sempre l'amarezza dell'eterna ripetizione dell'identico se se non restano neppure le nostre orme sulla polvere cosa ci può salvare certo a volte ce lo diciamo anche noi la letteratura del novecento ha fatto vari tentativi c'è l'illusione di dire ma l'abbiamo vista con Moravia se ti annoi io quando mi collego in dad e vedo le facce spente so di dover ringraziare anche questi miei amici scrittori se me le fanno notare se mi hanno regalato degli occhi per accorgermi degli occhi spenti e questi amici scrittori mi hanno anche liberato da alcune false illusioni per esempio l'illusione che basti uscire un po' sentite ancora Clemente Rebora una poesia ambientata a marzo c'è una persona che studia tra quattro mura mentre fuori esplode la primavera marzo lucendo nell'aria con vena sottile rinnova le sangue terra invernale e come occhio di bimbo tutto sapre a guardare dai riccioli al vento che va al primavera con spire irrequiete turbare l'inerte mia spoglia sì primavera tu sei bellissima ma io sono qui inerte immobile bloccato fra quattro mura di libri e d'ombre sopra pagine ingombre l'amabil giovinezza qui si infosca e si spezza l'amabil giovinezza che tranne sé non ha chi non conosca che va al primavera con avida gioia invitare il mio senso all'ebbrezza del sole e del vento dall'incessante via una canzone appassionata esulta e un rider sento d'uomini e di donne che nel lavoro preparano le voglie dalle pagine ingombre ho tenebrato il mio volto salza a chiedere la verità della vita che l'attimo contrasta ma il dolore non basta e l'amore non viene questo ragazzo che studia sente il richiamo della primavera fuori alza gli occhi ma sembra che l'attimo contrasti questo suo movimento verso l'alto e ne è addolorato ma il dolore non basta e l'amore non viene se l'amore non viene cosa possiamo fare noi per cambiare questa vita che non cambia mai questa vita è tutta uguale Luigi Pirandello ha raccontato nel Fumattia Pascal di un uomo bloccato anche lui nell'immobilità di una biblioteca che quando non ce la faceva più quando la testa li fumava andava andava a mare e diceva che appunto pensava lasciandosi scivolare la sabbia tra le dita pensava che la vita è sempre così fino alla morte senza mai nessun mutamento e poi camminando sulla riva del mare sentiva quasi che sentiva talmente forte l'inutilità delle sue domande che mentre le onde gli bagnavano le scarpe per lui era come se il mare gli dicesse lo vedi cosa si guadagna a chiedersi certi perché ti bagni solo i piedi ti bagni le scarpe e non hai soldi per comprarti altre scarpe davanti alla sua domanda ma perché perché la vita non cambia mai e come sapete lui provò a cambiare la vita perché ne ebbe l'occasione una avendo vinto al casino e sfruttando un malinteso per cui lo credevano morto lui decise di cambiare vita cambiando le circostanze esterne ossia cambiando nome chiamandosi Adriano Meis cambiando look perché lui sperava semplicemente che tutto finisse e poi ha potuto appunto è cambiata come dire finalmente non aveva più moglie non aveva più suocero non aveva più debiti a un certo punto ha sentito che essendo le circostanze esterne totalmente diverse poteva rifarsi una vita poteva essere libero come noi sentiamo che un giorno il covid finirà e saremo liberi e di cosa si è accorto dopo quando potuto cambiare le circostanze esterne che quella che chiamavano libertà in realtà avrebbe dovuto chiamarsi solitudine e noia perché non era cambiato niente dopo un po' le circostanze cambiate avevano rivelato gli stessi problemi di sempre duemila anni fa Orazio scriveva che celum non animum mutant qui transmare currant cambiano cielo non cambiano cuore quelli che vanno dall'altra parte del mare tu non puoi sfuggire da te stesso non puoi puoi cambiare posto ma non puoi strapparti di dosso te stesso lo diceva anche Lucrezio il tuo io ti sta sempre addosso ti segue non lo puoi cacciare via eppure quando Pirandello scriveva il fumetti a Pascal 1904 tutti credevano di star bene cioè l'idea generale era che non ci fosse alcuna crisi l'idea era che gli uomini fossero liberi assolutamente liberi eravamo prima della della grande guerra e sembrava anzi che che la scienza potesse dare una svolta alla vita sembrava che noi diremmo oggi che i vaccini potessero risolvere la vita e non so se riconoscete questo famoso incipit farneticava principio di febbre cerebrale avevano detto i medici e lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio che ritornavano a due a tre dall'ospizio verano stati a visitarlo pareva provassero un gusto particolare a darne l'annunzio con i termini scientifici appresi orora dai medici a qualche collega ritardatario che incontravano per via frenesia frenesia encefalite infiammazione della membrana febbre cerebrale e l'inizio del treno affischiato il treno affischiato comincia con questi termini scientifici che sono usati dagli dai colleghi di belluca sono impiegati d'ufficio eppure sembrano improvvisamente diventati tutti dottori come noi che ripetiamo i termini che sentiamo dai dei virologi tutti credono che è impazzito perché belluca non non dice più non è più un un esecutore dei suoi doveri perché si è presentato in ufficio e e non ha come dire si è presentato in ritardo non ha più svolto i suoi compiti non è più stato sottomesso al capo ufficio e tutti dicono è impazzito soltanto uno che è la voce narrante ricorre a un'altra interpretazione secondo lui invece esiste una spiegazione naturalissima a patto però di conoscere dice lui la vita di belluca cioè di conoscere la vita impossibile di belluca che è una vita circoscritta e perciò impossibile cosa ne sanno i colleghi di belluca cosa ne sanno i tuoi compagni di classe di che cosa significa vivere a casa tua se rileggete quella novella appunto vedete che la differenza tra l'interpretazione comune e quella della voce narrante è che la voce narrante si mette a conoscere appunto non si non si lascia bindolare dai termini scientifici frenesia infiammazione della membrana cerebrale febbre cerebrale ma vuole conoscere quell'uomo concreto che è belluca e e conoscendolo che questo tra l'altro è quello che giustamente viene chiamato l'umorismo di pirandello cioè il sentimento del contrario la riflessione sulla vita reale di belluca inizia a pensare che quella vita era totalmente impossibile da vivere perché lui si era dimenticato ma proprio dimenticato che il mondo esisteva ma qualcosa esiste oltre le solite quattro mura oltre il solito schermo qualcosa esiste oltre la prigionia io sono innamorato di una canzone di Lucio Dalla che si chiama la casa in riva al mare qualcosa esiste oltre la cella oltre la cella quel carcerato vedeva il mare di una casa bianca in mezzo al blu e immaginava di poter un giorno uscire e sposare quella donna di cui evidentemente non sapeva neanche il nome che lui chiamava Maria la vita è malata quando la vita ha un orizzonte minuscolo quando quando la siepe non richiama più nessun infinito quando si pensa che basti allargare un po' la siepe basti spostarla un po' più in là perciò i dottori non ne sanno niente perciò questa malattia non è una malattia da dottori i dottori non ne sanno niente ricordate la coscienza di Zeno di Italo Svevo chi è veramente malato Zeno oppure il dottoresse in realtà il vero malato è il dottoresse perché a suo avviso con qualche seduta psicoanalitica la vita potrebbe cambiare naturalmente dice in conclusione Svevo io non sono un ingenuo escuso il dottore di vedere nella vita stessa una manifestazione di malattia la vita assomiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti ma a differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale non sopporta cure sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite morremmo strangolati non appena curati e allora che cosa c'è nell'uomo malato nell'uomo che si accorge che la vita è una malattia e non si può far finta di essere sani perché tra l'altro solo i malati sanno qualcosa di loro stessi chi crede di essere sano invece non si guarda mai allo specchio cosa c'è nell'uomo malato faccio un esempio Ungaretti ha scritto che ha raccontato che la sua poesia è nata in trincea e che cosa ha scoperto facendo il soldato durante la prima guerra mondiale che che c'era la guerra e c'era qualcosa che era scrive lui molto più importante della guerra cioè che loro sentivano nascere nel cuore qualche cosa di insolito l'affetto l'amore l'uno per l'altro e si sentivano così piccoli come erano di fronte al pericolo eppure si sentivano appunto davanti a questo pericolo scrive Ungaretti così disarmati pur con tutte le loro armi insomma si sentivano fratelli la guerra è qualcosa che è più grande della guerra un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d'amore non sono mai stato tanto attaccato alla vita questa poesia si intitola Veglia è scritta a Natale del 1915 un Natale evidentemente tragico in cui Ungaretti non si trovava a casa sua ma si trovava sperduto a cima 4 che cos'è che Veglia nella notte come si fanno come si possono scrivere lettere piene d'amore mentre muore un amico accanto a noi cos'è che Veglia Veglia questo attaccamento alla vita che non è puro istinto di conservazione non è soltanto paura di morire non è soltanto sì non è soltanto una difesa è appunto è un attacco un attaccamento alla vita in questi mesi penso sempre a una geniale frase di Giannacci in quella canzone che si intitola quelli che quando lui dice quelli che praticamente fanno una vita da malati per morire da sani ecco appunto non è l'istinto di conservazione non è la paura di morire quella di Ungaretti è proprio l'attaccamento alla vita scrivere lettere piene d'amore ma come si fa a scrivere lettere piene d'amore mentre ti sta morendo accanto un amico o come si fa quando si è coscientemente chiusi tra cose mortali come scrive in dannazione a desiderare Dio chiuso fra cose mortali anche il cielo stellato finirà perché bramo Dio come è possibile che tutto finisce anche il cielo stellato dai che è il più grande simbolo dell'infinito finisce pure lui e allora come mai nasce in me questa domanda di Dio questa domanda di qualcosa che non finisca di qualcuno che abbracci questa è la veglia nella notte questa è la domanda di senso anche se tutto intorno a me è assurdo ma questa domanda di senso si salva appunto dall'orrore questa ribellione alla propria fragilità e questa scoperta clamorosa di avere accanto dei fratelli questi uomini che che si scoprono fragili ma anche fratelli c'è un'altra poesia appunto che si intitola fratelli in cui Ungaretti gioca con queste due parole allitteranti queste due parole verso da sole una parola chiuderà la poesia così con la parola fragilità e poi con la parola fratelli la poesia non parla solo attraverso il suo contenuto ma anche attraverso la sua forma diciamo così fragilità e fratelli l'allitterazione fa capire che due due persone o dieci persone cento persone si scoprono fratelli quando si riconoscono fragili non il fratello non è quello che risolve la fragilità dell'altro ma sono fratelli gli uomini che la guardano in faccia la loro fragilità e quello che nel novecento appunto io non sto nella pelle su questo con tutta la ricchezza della letteratura noi come dire come se non avessimo una tradizione alle spalle come se paradossalmente tutta la fatica che facciamo di stare incollati agli schermi per fare lezioni ma ci sta consegnando una tradizione che ci aiuta a vivere questo momento ad avere una speranza in questo momento oppure questa tradizione non ci sorregge più e dobbiamo sorreggerla noi se io penso a come Guareschi ha vissuto il campo di concentramento non muoio neanche se mi ammazzano quando per esempio se potete leggete almeno il diario clandestino di Guareschi nel campo di concentramento l'uomo è fatto così signora Germania di fuori è una faccenda molto facile da comandare ma dentro ce n'è un altro e lo comanda soltanto il Padre Eterno e questa è una fregatura per te signora Germania io non sono in un campo di concentramento ma non sono tuo signora Germania perché dentro dentro c'è qualcosa che si salva e allora ve lo ve lo leggo perché il titolo di stasera è nasce da una da una scoperta alla fine della seconda guerra mondiale di Cesare Pavese quando lui scrive che questo è l'ostacolo la crosta da rompere la solitudine dell'uomo di noi e degli altri questi anni di angoscia e di sangue ci hanno insegnato che l'angoscia e il sangue non sono la fine di tutto una cosa si salva sull'orrore pensate avevano vissuto cinque anni di guerra mondiale una cosa si salva sull'orrore ed è l'apertura dell'uomo verso l'uomo di questo siamo ben sicuri perché mai l'uomo è stato meno solo che in questi tempi di solitudine paurosa ci furono giorni che bastò lo sguardo l'amicco di uno sconosciuto per farci trasalire e trattenerci del precipizio sapevamo e sappiamo che dappertutto dentro gli occhi più ignari o più tordi cova una carità un'innocenza che sta in noi condividere ma ci accorgiamo che è quello che ogni mattina può accadere in dad se abbiamo degli occhi che se ne accorgono molte barriere molte stupide muraglie sono cadute in questi giorni ma che invidia anche per noi che già da tempo ubidivamo all'inconscia supplica di ogni presenza umana fu uno stupore sentirci investire sommergere da tanta ricchezza e della ricchezza della presenza degli altri dalla presenza dei miei alunni dei miei amici davvero l'uomo in quanto di più vivo si è svelato e adesso attende che noi altri cui tocca sappiamo comprendere parlare parlare le parole sono il nostro mestiere lo diciamo senza ombra di timidezza o di ironia le parole sono tenere cose intrattabili e vive ma fatte per l'uomo e non l'uomo per loro il nostro compito è difficile ma vivo e anche il solo che abbia senso è una speranza sono uomini quelli che attendono le nostre parole poveri uomini come noi altri quando scordiamo che la vita è comunione ritorno all'uomo questi questo si salva questo è il nostro compito sembra incredibile ma a volte ho paura che un anno di pandemia non ci abbia resi più aperti all'uomo più aperti nei rapporti mi ha mi ha fatto venire il mal di stomaco un'indagine Ipsos in cui alla domanda se un anno di dad abbia avuto conseguenze negative sullo stato d'animo molti hanno risposto di sì e quando hanno chiesto con chi ne hai parlato il 22% di quelli che stanno male hanno detto con nessuno e tra quelli che ne hanno parlato tra quelli che stanno male ne hanno parlato solo l'8% dice di averne parlato con un proprio insegnante cioè un anno di dad e 92 su 100 che stanno male non ne hanno mai parlato con l'insegnante ecco perché questa ha la ragione pavese questa è la crosta da rompere la crosta da rompere è la è la solitudine dell'uomo chiudo con con l'ultimissima questione cosa succede quando appunto anziché aprirci non ci accorgiamo nemmeno che sia quella la crosta da rompere la solitudine cioè la solitudine succede che la vita si blocchi e cosa accade appunto quando tutta la tradizione si sgretola e quando manca questa apertura quando non non la riscontriamo più c'è un romanzo del 2006 sforo un po' dal 900 romanzo americano di Cormac McCarthy che si intitola La strada in cui un padre e un figlio dentro l'apocalisse praticamente si dicono ce la caveremo vero papà sì ce la caveremo e non ci succederà niente di male esatto perché noi portiamo il fuoco sì perché noi portiamo il fuoco che fuoco portano se nel mondo il fuoco non c'è più se non c'è più nessuna apertura dell'uomo verso l'uomo ma vige la legge della giungla in cui addirittura lì ci sono i cannibali sono rimasti pochissimi uomini sulla terra nel romanzo l'uomo deve stare attento a non farsi mangiare dall'altro uomo come in dad bisogna fare la gara a chi non si fa fregare i professori che ti bendano ti dicono inquadrami il compito allora tu che ne cerchi un'altra sembra appunto la legge della giungla e il bambino di questo romanzo dice al padre dimmelo forza noi non mangeremmo mai nessuno vero? no certo che no neanche se stessimo morendo di fame stiamo già morendo di fame hai detto che non era così no ho detto che non stavamo morendo non che non stavamo morendo di fame ma comunque non mangeremmo le persone no non le mangeremmo per niente al mondo no per niente al mondo perché noi siamo i buoni sì e portiamo il fuoco e portiamo il fuoco sì ok noi portiamo il fuoco cioè quello che si salva nell'orrore è che c'è un fuoco che non è fuori non è nel cambiamento delle circostanze esteriori ma c'è un fuoco dentro quindi l'uomo è vero che ha bisogno di altri ma non di altri qualsiasi di altri cannibali per esempio ha bisogno di altri che raccendano il fuoco altrimenti una pioggerellina lo spegne questo fuoco a insegnarcelo è uno che 400 anni fa ha vissuto proprio la peste ed è Renzo dei Promessi Sposi che nel penultimo capitolo quando finalmente dopo mille guai può sposarsi Lucia nel lazzaretto gli ha detto che possono sposarsi si fa chilometri di notte dal lazzaretto fino al suo paese e quando la mattina dopo arriva inzuppato fradicio ma non gliene importa niente perché è l'uomo peggio conciato e più contento della terra così dice Manzioni alla domanda del suo amico che lo ospita che lo vede arrivare stremato completamente inzuppato gli dice come va Renzo anziché imprecare anziché dire tutto a me guarda Don Rodrigo Don Abbondio la Zecca Garbugli il rapimento la monaca di Monza l'arresto Milano i lanzichenecchi la peste il voto di castità e pure la grandine anziché bestemmiare alla domanda come va da una sola risposta dice la c'è la c'è la c'è c'è Lucia per quello il suo fuoco non si è spento tant'è che penso sia la frase più bella da leggere in questo periodo dopo due anni si incontrano finalmente Don Abbondio e Renzo dopo due anni da quando doveva celebrarsi quel matrimonio e Don Abbondio dice possibile che abbiate ancora tutto quel fuoco dopo tante cose c'è o non c'è si riferisce a Don Rodrigo non c'è via ma è la peste figliolo la peste chi è che vada in giro in questi tempi se non fosse altro che la peste in questo mondo dico per me l'ho avuta e son franco non c'è solo la peste a questo mondo c'è una cosa oltre la peste c'è una cosa che si salva dall'orrore e sono uomini che portano il fuoco come mai ancora tutto quel fuoco addosso Don Abbondio non lo può capire come fa Renzo ad essere così perché la c'è perché c'è qualcuno nel suo caso Lucia che quel fuoco lo riaccende mi fermo grazie Valerio veramente una lezione ricca di di spunti di riflessione di anche di di osservazioni letterarie e personali come solo la poesia in certi casi letta così può far suggerire allora io come tempi abbiamo un pochino sforato ma penso che nessuno si sia si sia annoiato per le 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 riflessioni che ci ha fatto il professor Capasa lascerei se c'è professor Mereghetti ci sono delle domande uno spazio per qualche domanda anche ce ne sono già e molte quindi cominciamo a farne alcune e vediamo quelle che riusciamo a fare vi sono alcune domande che ti chiedono di chiarire la vicina della domanda perché tu hai detto che il problema non è come è morta Silvia ma perché è morta Silvia e poi uno che chiede ma le domande che ci facciamo ci limitano e se non avessero senso dal principio qual è il senso della vita che sta alle domande è preferibile la distanza sociale nel mondo fantastico dei sogni o la realtà che può non piacere ne ho raccolto alcuno comunque il tema è quello della domanda Valerio ci sei? Sì la letteratura soprattutto quella del novecento ha costantemente messo a fuoco la domanda ora io penso che questa sia un po' la nostra miopia di questi tempi cioè non renderci conto che dovremmo buttare a mare tutta l'arte tutta la letteratura se avessimo un'ipotesi negativa sulla domanda cioè anche Clemente Rebora in una poesia che abbiamo letto prima diceva ma il dolore non basta e l'amore non viene è chiaro che non basta non basta farsi delle domande perché come ci insegna Dante uno come Virgilio che si è fatto domande per tutta la vita non va in paradiso rimane nel limbo e il limbo è la pena di un desiderio senza speranza di una domanda che non viene mai abbracciata dall'amore per cui è vero che la domanda non basta la domanda è insufficiente ma la domanda è come dire è ciò che anima la vita cioè partire dall'ipotesi negativa per cui non è inutile farsi le domande appunto è un'ipotesi di partenza pregiudiziale se io come dire io non saprei come fare lezione con i miei alunni se pensassi che le domande non hanno senso innanzitutto perché dovrei evitare una pagina sì una pagina no un po' tutti tutti i testi letterali cioè dovrei buttare a mare Dostoievski dovrei buttare a mare Leopardi dovrei buttare a mare Ungaretti è un po' perché dovrei ignorare i miei alunni quindi non so se sto provando a tenere insieme diciamo le varie domande che che sono state poste però mi pare che appunto la letteratura del novecento documenti non una soluzione quanto una come dire una realistica presa d'atto che tante soluzioni che sono state provate cioè quella autonomistica di Mattia Pascal di autocostruirsi una nuova vita quella scientista che il mondo sarà risolto che tutte quelle soluzioni non funzionano perché la domanda è molto più grande e perciò leggere quel problema ci permette di guardare ben oltre i problemi sanitari ben oltre i problemi psicologici e andare fino al problema dell'anima lì l'uomo è davanti all'abisso ed è davanti finalmente cioè non ad altri uomini che li possano rispondere tant'è che Leopardi chiedeva alla luna la luna può anche essere silenziosa ma molto meglio essere silenziosi che chiacchierare sulle domande come purtroppo fanno gli uomini cioè lì è il territorio del mistero del metafisico e la poesia mette gli occhi su questo dice che la vita è critica perché la vita è desiderio di uscire a rivedere le stelle non è desiderio di uscire a rivedere gli amici a fare sport è desiderio di stelle desiderio di altro vai Gianni proprio in questa direzione hai spento il microfono Gianni proprio in questa direzione c'è un ragazzo che chiede di fronte all'incompletezza e di fronte alla mancanza come si fa dire di sì come accettare il giorno in cui nulla accade che cosa ti fa dire ne va la pena in forza di che cosa uno riesce a vivere dentro questa incompletezza mi viene in mente una risposta che da che da Cesare Pavese alla domanda si può accettare questo cioè si può accettare che appunto alla fine della giornata ci scopriamo sempre soli anche se siamo stati sempre con gli altri e Pavese dice dobbiamo accettarlo perché cosa sarebbe la vita se non ci sentissimo soli se svanisse il mistero saremmo più morti dei morti perché ignoreremmo di volere qualcosa allora da un lato è inaccettabile una vita che si ripresenta sempre uguale dall'altro il contrario di una vita che si presenta sempre uguale è quel personaggio di Michael Stetter che come dire è convinto che la vita basti a se stessa cioè io vedo quando parlo con tanti insegnanti con tanti colleghi che loro cioè da un lato dicono è anch'io sto scocciato sono apatico non ce la faccio più dall'altro è come se poi il problema non lo vedessero per cui cioè fanno queste cinque ore di collegamento senza mai leggere appunto questa insofferenza questa noia questa impossibilità di accettare una vita circoscritta la vita circoscritta è impossibile ci vuole un fischio di treno ci vuole un fischio di treno cioè ci vuole una stella che resista ci vuole una cosa che si salvi dall'orrore ci vuole una lucia che che aiuti come dire ad alimentare quel fuoco che ci portiamo dentro altrimenti è letteralmente inaccettabile però la poesia appunto segna la condizione la poesia dice parla di quel fuoco che ci portiamo dentro e che un altro bisogno di che un altro può riaccendere non parla appena di sistemare le vicende esteriori o di uscire da un brutto periodo aspettando Godot aspettando il Godot della normalità è un ragazzo che riprende Cesare Pavese nella casa della collina dove l'immagine l'immagine di lui in collina nel silenzio è in lontananza Torino che brucia e lui dice lei non lei tu non senti un parallelismo con la nostra situazione ma in silenzio di fronte a Torino non c'è troppa solitudine c'è un parallelismo e rincaro la dose il parallelismo sta anche nel fatto che alla fine della casa in collina Pavese e il romanzo viene pubblicato quando la guerra la seconda guerra mondiale la lotta partigiana è terminata Pavese scrive che io non credo che la guerra possa finire cioè per Pavese la guerra non era soltanto la guerra tra i fascisti e gli antifascisti c'era una guerra più seria perché anche quelli che sono morti ci chiedono la ragione per cui sono morti scrive nell'ultima pagina della casa in collina cioè una morte non si giustifica con l'instaurazione della democrazia finalmente abbiamo liberato l'Italia dal fascismo questo non giustifica la singola morte perciò la solitudine è brutale proprio quando come dire c'è una solitudine più brutale ancora dell'uomo solo che guarda uno scenario assurdo la solitudine più brutale è quando in mezzo agli altri si avverte di essere del tutto soli cioè una persona che si collega è lì collegata e ci sono altre 25 persone oppure finalmente c'è il via libera può uscire e si accorge che lì dentro cioè mentre sta con gli altri non c'è nessuno che si accorga di lui mentre l'uomo che guarda una città in fiamme da solo come per esempio Enea perché anche è una scena che somiglia e somiglia alla nostra l'uomo che guarda è l'uomo che paradossalmente sente di essere un sente di essere insieme a quegli uomini soli e scopre l'apertura sua verso quegli altri uomini che sono soli è un ragazzo che riprende Rigoni Stern e dice quello che descrive Rigoni Stern Stern della trincea è quello che vivo io e durante la giornata sono sempre le stesse cose poi prendi un bel voto e allora ti sembra di volare e poi nulla ma come si fa a uscire da una situazione del genere? Sì esattamente così e infatti penso che appunto Rigoni Stern sia un altro gigante che ci aiuta a capire la come dire proprio la monotonia delle giornate che si ripetono uguali il delirio di immobilità che citavo a proposito di Montale poi torna torna il nulla cioè Montale dice arriva la barca di salvezza ma poi a un certo punto scompare la scia scompare la scia di questa barca di salvezza e quindi è assolutamente vero e la poesia alza la posta alza la posta in gioco cioè continua a dire che appunto è inaccettabile cioè non possiamo accontentarci di risposte piccole non possiamo accontentarci di spostare semplicemente cioè di un fiore in mezzo alla siepe non si tratta di un fiore in mezzo alla siepe si tratta di qualcosa che la siepe non ha e paradossalmente proprio il fatto che appunto le giornate monotone ci ho citato la siepe perché Leopardi quando scrive l'infinito viveva in una zona rossa da vent'anni perché casa sua era zona rossa non si poteva mettere piede fuori di casa ecco Leopardi in quella zona rossa che viveva da quando era nato ha pensato all'infinito quindi appunto è inaccettabile tutto ciò che sia semplicemente un un fiorellino che spunta come si fa appunto ad accettare il nulla che torna non lo si accetta ma quando una poesia trova le parole per dire che il nulla che torna la scia che viene di nuovo cancellata dal mare perennemente identico a se stesso che questo è inaccettabile uno comincia a sentire di avere dei fratelli comincia a sentire di avere dei fratelli che condividono la propria fragilità e non ti salvano la vita perché la poesia non ha mai salvato la vita a nessuno però ti mettono nelle condizioni di porre la domanda del della risposta vera Virgilio Dante non lo porta in paradiso Virgilio lo fa iniziare a camminare verso il paradiso delle risposte ma la poesia è la terra delle domande allora un ragazzo che chiede se puoi approfondire la questione di Pierandello cioè la frantumazione dell'io in rapporto a quello che stiamo vivendo noi oggi se tu non vedi proprio una analogia molto molto forte e come si possa ritrovare un io domande da cento punti io evidentemente sto ci sto provando o poi chi vuole scriva valeriocapasachiociola gmail.com secondo me hai scatti perché ce ne sono tantissime ma sono commoventi perché stai toccando dei livelli umani veramente impressionanti per cui vale la pena che vada avanti questo dialogo pirandello è sicuramente uno che ci aiuta a leggere il nostro tempo se io penso a un saggio del 1896 di cui io sono innamorato si chiama Rinunzia lui dice che noi siamo rimasti siamo rimasti nel mistero e senza Dio cioè noi siamo ci consideriamo dentro una piccola patria di piccoli enti dice lui che dovrebbero appoggiare non più in cielo ma sulla terra i propri ideali senza domandare nient'altro ma scrive Pirandello in questo saggio Rinunzia del 1896 ma è possibile che la domanda non sorga se la terra rimane pur sempre circondata di cielo cioè ci dicono che noi dobbiamo cavarcela da soli appunto che l'uomo deve risolvere la sua crisi la sua frammentazione con le proprie forze ma il progetto fallisce e lì nasce il nuovo problema cioè Pirandello dice noi avevamo c'è un altro saggio che si chiama Arte e Coscienza d'Oggi in cui lui dice noi ci eravamo tolti dalle labbra il nome di Dio perché ormai eravamo progrediti ora quel nome Dio ci torna non solo sulle labbra ma ci torna nella lacerazione del cuore ci torna nella ferita del cuore perché noi non siamo stati capaci di darci quella felicità che ci sembrava portata di mano e il problema è esattamente questo perché quando tu scappi quando tu individui il nemico e dici allora il problema è che non sopporto mia moglie non sopporto mia suocera non sopporto i miei debiti e quindi scappi perché sei convinto di avere un'alternativa ma poi ti accorgi che l'alternativa non risolve il problema cioè ti accorgi che anche con Adriana ci sono gli stessi problemi che c'erano con tua moglie che anche da Adriano Meis ci sono i problemi che avevi come Mattia Pascal a quel punto dove vai a quel punto capisci che i veri pazzi non sono quelli come dire che chiamano pazzi i veri pazzi sono quelli che si credono sani sono quelli che si credono normali ho in mente l'enrico quarto di Pirandello in cui Enrico quarto che fa il pazzo è l'unico sano in un mondo lui recita la parte del pazzo e si accorge che tutti gli altri non recitano la parte dei pazzi sono proprio degli attori diventi cioè sono proprio persone che sono sempre fuori da loro stessi cioè sono persone che fanno finta e credono invece di fare sul serio ecco allora appunto Pirandello dice quando l'uomo capisce che l'alternativa non è migliore del problema da cui scappava lì si rende conto che il problema non è cambiare una circostanza con un'altra ci torna Dio nell'ardore della ferita non solo sulle labbra allora abbiamo una domanda di un confronto tra Montale e Chaplin che è interessante dice Montale questo ragazzo dice Montale ha una certa idea della libertà Chaplin dice che la libertà è relativa la libertà è una questione fondamentale non solo del novecento lei cosa ne pensa? è una domanda troppo larga questa però cioè nel senso che allora cosa pensa Montale della libertà già è un capitolo grosso cosa pensa Chaplin è un altro capitolo grosso su Chaplin non mi esprimo perché ho visto qualcosa di Chaplin ma per sapere cosa pensa Chaplin della libertà forse c'è da approfondirlo ulteriormente ma in ogni caso anche lì la libertà cioè io penso a un'intervista di Montale in cui lui dice che il problema della mia vita non nasceva dal fascismo anche se tutti dicono che appunto se noi pensiamo a come le letterature lo descrivono Montale la prima raccolta nel 25 quindi lui quello che sentiva era dovuto al fascismo ma la libertà non era libertà dal fascismo io sentivo che la guerra si giocava su tutt'altro piano e allora la libertà per Montale cioè quella quella maglia rotta nella rete che ci stringe quel quell'anello che non tiene quel filo da disbrogliare che ci salvi da questa apparenza continua al di qua della muraglia quella libertà forse la maniera più chiara in cui Montale l'espressa in una poesia del diario postumo in cui diciamo mezzo secolo dopo gli ossi di seppia Montale chiaramente dice ve la leggo in giorni come questi in giorni come questi spesso la tetragine massale e il vivere d'ora in ora mi tortura ma arrivi tu che sconfiggi la noia con i tuoi discorsi variopinti anche oggi cercheremo una breccia una parola nuova che ci possa salvare e che ci tenga in bilico sul confine ideale tra realtà e fantasia potrà anche per poco anche se per poco cangiare l'esistenza perché la libertà è quando c'è una breccia quando una breccia ci permette di appunto andare dall'altra parte della muraglia ma questa breccia cos'è è quando arrivi tu questa è la libertà allora io direi che per oggi possiamo fermarci qua e ringraziare il professor Capasa ci ha fatto vedere cosa vuol dire veramente che la poesia è la terra delle domande bellissima questa espressione che hai usato è la terra delle domande e come appunto suscita continue domande per questo appunto come già diceva il professor Capasa innanzitutto il video sarà sul sito di Portofranco tra qualche giorno chiedo al professor Capasa se potremmo mettere come è stato chiesto anche le slide delle poesie delle opere che ha citato e metteremo anche quello e magari appunto come dicevi prima la tua mail per chi vuole continuare a dialogo con te così come si è sviluppato in questo momento se vuoi ridire la mail comunque magari metteremo anche nel video di Portofranco ecco Valerio Capasa chiocciola gmail.com perché la pagina facebook come lo vede benissimo e mi permetto di dare due avvisi anche visto l'emergere delle potenti domande che sono venute fuori molti magari di voi lo sanno ma altri no invito personalmente ciascuno di voi all'incontro che faremo in cui sarà posto a tema anche queste domande che la poesia cioè ha fatto emergere che questo incontro ha fatto emergere ma che la poesia e la letteratura cioè lo studio può far emergere il continuo di queste domande da un incontro che venerdì 26 ci sarà con un sacerdote un Biancarron che ci aiuterà anche ad affrontare a livello ancora più esistenziale queste domande per l'informazione su questo incontro andare sul sito di Avvenimenti e l'altro avviso che voglio dare è il prossimo e ultimo incontro di questo ciclo così ricco di spunti di quest'anno che sarà di tema filosofico avremo con noi il professor Massimo Borghesi professor ordinario di filosofia morale all'Università di Perugia che ci parlerà della crisi dell'assoluto del pensiero tedesco da Hegel ad Heidegger cioè che ricomprenderà tutto il percorso della filosofia che studiamo studiate nell'ultimo anno ringraziandovi per la partecipazione vi auguro a tutti e ringrazio ancora il professor Capasa una buona serata grazie ciao Valerio ciao Albertino ciao grazie a tutti